Erano circa le 22 della notte scorsa quando una densa colonna di fumo nero si è alzata da uno dei capannoni della zona industriale tra il raccordo e i via grandi. Un incendio è divampato all'interno di un'azienda che si occupa di recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti elettronici, si è fratta della Simgram di via Arturo Chiari. Sul posto varie squadre dei vigili del fuoco, un'ambulanza della misericordia di Arezzo a supporto dei pompieri aretini, oltre che addetti alla sicurezza privata. I pompieri hanno spento l'incendio e contenuto le fiamme prima che si propagassero agli ambienti circostanti. Ad andare a fuoco all'improvviso probabilmente i rifiuti all'interno della stessa struttura. In corso accertamenti per capire le cause del rogo, l'azienda in quel momento pare fosse del tutto chiusa. Nessuno comunque è rimasto ferito, sul posto sono intervenuti anche i tecnici ARPAT e il personale dell'Asla Toscana Sud-Est.